Le anime dell'aldilà. Ogni dimensione ha la sua luce ed il suo buio. Le anime dell'aldilà comprendono le parole del mondo ma fra di loro parlano la lingua dell'universo con l'invisibile energia delle stelle. La vita e la morte sono straordinarie dimensioni parallele. A volte le voci dell'aldilà invadono il confine ma non tutti riescono a sentirle e comprenderle. Ogni dimensione ha la sua luce ed il suo buio. Le anime dell'aldilà comprendono le parole del mondo ma fra di loro parlano la lingua dell'universo con l'invisibile energia delle stelle. La vita e la morte sono straordinarie dimensioni parallele. A volte le voci dell'aldilà invadono il confine. Ma non tutti riescono a sentirle e comprenderle. valte l'infinito. la vita e la morte sono straordinarie dimensioni. A volte le voci dell'administraire la vita è una luce. La vita è un buio. La vita è un buio. Leone epistrati